che esistono in diverse produzioni, in diverse opere, che hanno un risponso da parte. Tutto quello, se parlato di paesaggi, donne, mare, eccetera, qui accudiscono forza di dentro porto della forza. Che ci fa legarlo? La realizzazione dell'opera è fatta con due piccoli prossissimi di spavola che parlano tra di loro, cioè un inforso di campo. Ma sono fiori che hanno vita, non sono per conto ciò, vivono tutti insieme e danno questa postura sulla città, la visione, la università e l'opera.